ciao a tutti da iota e bentornati sul canale quest'oggi porteremo cioè riempiremo se ce la facciamo di fuel cioè vero carburante questo bellissimo razzo per poter andare là sopra già dove ci sono quelle stelle esplorazione per vedere se ci sono ci sono un po di ragnetti ma non dovrebbe esserci nessun altro i creeper non dovrebbero esserci ok facciamo colazione con un bel panino magari al prosciutto e andiamo a creare nel nostro laboratorio segreto esatto ho cambiato anche la posizione di questo l'ho messo lì perché qui stonava un po allora dunque io devo fare anche questo l'ho già creato quindi devo creare il full loader che praticamente deve essere connesso al launchpad un full loader permetterà alla benzina al carburante di passare nel razzo connesso altri veicoli quindi lo devo andare a creare sopra perfetto quello che voglio fare questo che è abbastanza semplice perché molto molto semplice abbiamo tutto ci dovevamo creare solamente questo il buffer ce l'avevamo già quindi andiamo forse già l'ho creato full loader ce l'ho già attenzione ce l'avevo già avevo già creato precedentemente stavo andando a creare un altro perfetto posiamo tutto ciò che non ci serve ci siamo creati due canister inutilmente andiamo a posizionare questo questo qui vedo che c'è un cosino rosso quindi non so se ha bisogno di energia corrente o qualsiasi altra cosa non ne ho la più pallida idea se io lo posiziono qui per esempio ha bisogno di corrente già full loader stato no full load ok qua dentro cosa vuole questo non so come funzioni non ne ho la più pallida idea ma ha bisogno di corrente quindi dobbiamo fare un circuito che da qui va qua praticamente esatto e sarà un po un dilemma però forse possiamo farlo no scendiamo di qua camminiamo arriviamo qui e qui sotto in teoria ci dovrebbe essere esatto quindi se noi facciamo così magari così ok e poi così perfetto dovremmo poterci innestare inserirci qui quindi iniziamo i lavori allora prima di tutto ci serve una pala che non abbiamo e ce la costruiamo immediatamente quindi andiamo a prenderci questo e ci creano una pala magari così esatto grazie e andiamo a scavare no usciamo da qua mi sono incastrato permesso grazie ok io spero che aspetta 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 però c'è l'ingresso e l'uscita io vedo ingresso e uscita e non mi ricordo il rosso ingresso uscita non mi ricordo vediamo allora ne ho a vedere qualche esempio allora il rosso e l'ingresso e quindi il nero sarà l'uscita ma l'uscita deve andare connessa quello oppure no domanda perché se fosse così ok a questo punto non lo potremmo mettere qua oppure creare un coso così e mettere il full loader qua in modo tale che da qua usciamo e da qua si potrebbe essere un'idea ok c'è un problema perché poi non riesco più a uscire ok andiamo anche di qua ci incontriamo mi sa che dobbiamo scavare un po' di più eh mi sa proprio di sì io potrei anche arrivarci da qua però scusa ci arriviamo di lato non è meglio tipo così vediamo se stiamo facendo giusti dobbiamo contarli in teoria aspetta dovremmo essere ah ci siamo era perfetto ok quindi se noi facciamo così ci siamo signori ci siamo ci siamo creati il nostro bellissimo cunicolo dove andremo a mettere i cavi a mettere i cavi a mettere i cavi rimettiamo questi esatto ricopriamo il tutto come se nulla fosse successo abbiamo la corrente come tutti i giochi refinery eccola qua e infatti immaginavo dobbiamo raffinare per avere la benzina questo non ci serve più esatto questo è facile fornace steel e stone e due canistri due canistri è bellissimo due canister ok due canistri che non ce le ho ce le avevo saranno qua infatti allora quindi abbiamo bisogno di steel stone che penso che ce le abbiamo ok poi steel ok forse ci siamo no ci vuole di copper è una fornace ok facciamo subito la fornace 4 5 6 e naturalmente me ne mancano due 1 e 2 ok e ci abbiamo la fornace dunque dopo la fornacella questo lo mettiamo qua ok grazie la fornacella questo lo posiamo credo che poi avremo bisogno pure delle pipe ah ce l'avevamo già la fornace bravo bravo quindi non i tin ma i copper copper canister aspetta come si faceva il canister si fa col compressed o con canister ok no solo con questo qua ce l'abbiamo copper copper no lo prendiamo da qua uno quindi sono tre quindi sono tre ok ci siamo tanti ce ne da due a botta quindi in teoria ci dovremmo essere esatto oh ok questo ce lo raccogliamo tutto e lo andiamo a posare qua perfetto dunque adesso andiamo a creare questo che ci dice ah no ce l'abbiamo già sono confuso ci sta un attimo di confusione e ce l'abbiamo la raffineria ora la raffineria andiamo a controllare ingresso uscita e sopra c'è la corrente perché se lo facciamo lì qui dobbiamo portarci il tubo però sapendo che noi abbiamo già uno scavo qua sotto che porta la corrente potremmo sfruttare questo porta corrente e qui mettergli quello e fare tutto sotto casa che non è male non è assolutamente brutta come idea e magari farlo più in là è un po' da vedere andiamo a vedere cosa possiamo fare perché io se non mi ricordo male qui sotto oltre a quei mob che cercano di uccidermi dovrei rompere ma chi mi sta a sparare ah è l'assolto l'ho beccato ah ma è quello piccolino muori l'assolto io questo qui lo devo spaccare aspetta eh stai fermo senza cadere ecco così perfetto ah io so che qua sotto abbiamo tanto olio proprio lì ok ci siamo allora ho creato questo ho allargato un po' questa stanza togliamo anche questo e praticamente gli andiamo a mettere il fuel qui questo si riempie questo raffina e questo si riempie naturalmente adesso non c'è corrente elettrica quindi perché sarà notte e quindi andiamo a dormire esatto e andiamo a vedere cosa succede come raccogliere e allora lasciando stare che il ragno vuole morire ciao ragnetto guarda vediamo se riesco a beccarlo così cioè me lo dà ma non posso ok va bene non è un problema andiamo giù e andiamo a vedere questo ok se noi facciamo raffina incomincia a raffinare ok 24.000 litri potrebbe essere ci sta quindi da qua si può uscire da qua si può entrare infatti lui sta raffinando ok quindi fino a quando non arriva questo non so se lo sta perdendo no perfetto abbiamo il gasolio ora lui dice qui qui possiamo metterci i bucket quindi questi qua i secchi qui lui vuole un empty liquid canister ma sapendo che saliamo sopra permesso fammi vedere se ci sono qualche noi potremmo ah guarda chi c'è lo andiamo a uccidere ciao strega uno due tre quattro è morto ah occhio sta rivedendo sempre uno vabbè questo era abbastanza deficiente ok un po' stupidino andiamo qui facciamo colazione come ogni mattina quindi possiamo portarci i tubi direttamente qua quindi incominciamo a scavare scaviamo il tutto e eliminiamo facciamo praticamente un secondo binario in modo tale che ci portiamo se tutto va bene l'altro tubo dall'altra parte questo è dispendiosissimo questo coso qua molto dispendioso perfetto iniziamo e vediamo un po' come viene ma è dispendioso quindi un po' di diorite e un po' di intubite un po' di diorite cacchio siamo già arrivati fico siamo già quasi arrivati ci servono un altro po' di quelli e siamo arrivati pipe qui ci va questo qui un'altra pipe facciamo così facciamo le cose come si devono fare perfetto si ci ricordiamo che qui c'è tutto il pipe e da qui ma entrava da qui usciva da qui no l'unico ingresso era quello io mi ricordo così oh guardalo da dove è uscito me lo secondo me è scomparso e poi è riapparso ha fatto il giro lui sneaky peaky voleva uccidermi perfetto andiamo qui e facciamo questo lavoro qua che è brutto ma qualcuno lo deve pur fare magari sotto ecco così si è messo a piovere governo ladro e andiamo qui si è collegato perfetto adesso questo non fuel to load dovrebbe portarli il fuel giusto? in teoria dovrebbe essere così ma non sembra funzionare non sembra che stia funzionando come dovrebbe cioè questo qui a cosa serve allora cioè veramente non capisco ma mi adego scommetti che non bisognava fare quel discorso lì cioè ma bensì dovevo portarglielo a manella oppure da qua c'è questo a meno che non esce da qua esce da là boh non lo so aiuto help sauce me rifina non c'è fila nessun olio come da qua dovrebbe uscire il pipe no? bel dilemma ok allora vediamo un po' se riusciamo a sbagliato il comando ok riusciamo a portare tramite questi che sono empty canister vediamo un po' si riempie si ok si riempie e si riempie non so perché non funziona questo tubo e non riesco a portarlo forse abbiamo bisogno di una pompa o qualsiasi altro archivugio per portare la corrente elettrica lì vediamo un po' adesso se ne andiamo qui facciamo così uno due e tre dovrebbe portare benzina qui dentro vediamo un po' G mmm qualcosa non funziona qualcosa non funziona qualcosa non funziona questo aspetta aspetta quello lì deve andare qua proprio attaccato qui dobbiamo fare la modifica e completiamo la struttura allora praticamente l'ho spostata quindi adesso è attaccato direttamente alla piattaforma in teoria dovrebbe funzionare però il fattore di romperlo e rimetterlo abbiamo perso esatto il fuel guadagnato a meno che è qua dentro vediamo un attimo G no non c'è niente usciamo perfetto non c'è niente dobbiamo andare a recuperare il gasolio ok dunque se non ricordo male doveva essere qua vicino infatti sente il rumore però non mi ricordo se era qui dovrebbe eccola qua esatto trovato bingo questo qua è carne marcia non mi interessa e prendiamo questi e è tre ecco fatto facciamo anche una bella cosa prende fuoco se faccio così no ok mettiamo un po' di luci perché qui non mi piace è tutto buio facciamo anche così perfetto e andiamo a vedere se nel frattempo che siamo qua la nostra farm ha raccolto qualcosa di bello ancora niente che peccato però non sento i carrelli camminare ah eccoli qua aspetta ah ecco infatti eccoli qua ha raccolto un sacco di roba eh sì perché eh sì mi sono ricordato adesso che stavo cercando infatti lui sta raccogliendo tutto quello che è rimasto qua volevo portare questo sopra o mettere una cesta qua che forse era meglio esatto infatti lui sta raccogliendo tutte le slime ball che sono rimaste ferme perfetto non è problema dovremmo mettere una cesta qui forse è meglio vediamo se riusciamo a fare facciamo così ci facciamo una crafting table che ci può essere sempre utile e la mettiamo anche qua va bene e qui ci creiamo una mega cesta uno e una due esatto e qui dovremmo fare per adesso potremmo fare così però e poi vedere di farlo in maniera più carina allora uno e due questa qui ce n'è troppe quindi la distruggiamo e la colleghiamo qua esatto così lui raccoglie tutte le slime ball là dentro per adesso va più che bene ok ci siamo raccolti un sacco di slime ball quindi la farm funziona benissimo perfetto vediamo di raffinare ancora altro petrolio ok andiamo qui ci prendiamo questo e vediamo se funziona non capisco perché non lo fa in automatico con questo tubo qui assolutamente non lo so se lo sapete voi fatemelo sapere scrivetemelo qui nei commenti come funziona il tutto devo sistemare questa porta ok perché in automatico è molto meglio dunque mettiamo questo questo e questo e sembrerebbe che stia funzionando perché lo vedo scalare vediamo g si funziona grande iota grande funziona si sta riempiendo si è riempito signori ce l'abbiamo fatto ma posso mettere anche le cose ah perché c'ho lo spazio buono ci mettiamo il cibo sì e usciamo come si uscì ah così ok perfetto ok signori per oggi è tutto spero che vi siete divertiti fatemi sapere il perché dei tubi che non trasportano il petrolio raffinato dalla raffineria al caricatore di benzina per il razzo come sempre siete mitici e dalla prossima bye bye